Paolo Ponzelletti, padrone di casa, padrone di casa che ha restituito questa stupenda Villa Tosi alla città. Il tuo pensiero? Bene, innanzitutto siamo orgogliosi di poter ospitare questa mostra fotografica che sicuramente porta vanto e lustro a degli artisti qui locali di Bustarsizio. Inoltre è stato veramente un piacere riuscire a riportare alla vita un'opera d'arte come Villa Tosi. È stato un grande lavoro grazie anche a Gian Battista e all'ingegner Fusetti siamo riusciti veramente secondo noi a fare un'opera di grande rilievo. Perfetto, Gian Battista Gallazzi, architetto di questa bella opera, di questa chicca di bellezza che dà lustro veramente a Bustarsizio. Gian Battista, a cosa ti sei ispirato e che messaggio vogliamo dare alla città, magari anche ai giovani? Allora, questa è una classica dimostrazione di come il riutilizzo di certe strutture può essere effettuato in vari modi, in varie maniere. Questa parte come residenza padronale della proprietà dell'allora Manifattura Tosi per essere poi trasformata in edificio negli uffici della Manifattura Tosi per vivere poi una sua terza vita come istituto scolastico per tanti decenni e alla fine ritornare a quella che forse era la sua vocazione iniziale, che era quella di essere una residenza. Prima era una residenza monofamiliare, oggi, date le dimensioni, siamo riusciti a ricavare delle unità immobiliari di notevoli dimensioni, ma sostanzialmente abbiamo restituito questa bellissima casa e il suo meraviglioso giardino o parco, come qualcuno lo chiama, alle sue originarie funzioni. Perfetto.